Formazione già pronta in Casarezzo per la trasferta di Pistoia. Sul campo della nave gli Amaranto hanno disputato un test amichevole con la Berretti di Elvis a Bruscato, durante la quale Mister Sottili ha utilizzato tutti gli uomini a sua disposizione. Uniche eccezioni, Arcidiacono che ha svolto un lavoro personalizzato e Benassi che non ha preso parte all'amichevole. Tra le novità la presenza in gruppo di Eppier Giorgio Altissimi, giocatore classe 94, un attaccante all'occorrenza esterno offensivo aggregato al gruppo della prima squadra. Nel primo tempo spazia ad un 4-4-2 con Bassi, Rimilesi e Sabatini in difesa, mentre a centrocampo ecco Altissimi, Demba, Rossetti e Corradi sulla sinistra, mentre in attacco spazia Erpen in coppia con Moscardelli. Nella ripresa spazia a quella che sarà la formazione titolare con la quale la Rezza affronterà il Melani di Pistoia e gli Arancioni. Confermato il blocco difensivo con Luciani, Muscat, Solini e Masciangelo, il centrocampo con Foglie De Feudis in mediana e sugli esterni Yanga con Bearzotti che si sta scaldando per sostituire Arcidiacono qualora l'ex Foggia non potesse prendere parte all'incontro. Nessuna sorpresa in attacco dove Polidori sarà la punta centrale supportata da Paolo Grossi. Domani allenamento sul sintetico del Bonconte da Montefelto alle 10, sabato la rifinitura all'interno del Cittagliarezzo che resterà a porte chiuse.